E sull'emergenza Covid vi stiamo informando dall'inizio della pandemia quotidianamente nel Tg8 su Rete8.it e sui canali social di Rete8 e stiamo registrando ormai da molto tempo un boom di visualizzazioni e di commenti. La redazione social lavora quasi 24 ore su 24 per pubblicare post, video, le dirette, Facebook. Luca Pompei ed Enrico Giancarli sono la parte attiva, il cuore pulsante della redazione social. C'è Luca Pompei in diretta. Luca, buon pomeriggio. So che nelle ultime ore si è superato ulteriormente il boom di visualizzazioni e commenti. Mi confermi? Sì, sì, anche perché la tematica della variante Omicron, ma soprattutto il picco di contagi che si è registrato ieri, ha fatto il pieno di visualizzazioni. Anche rispetto all'ottimo reportage del nostro Enrico Giancarli che è andato a intervistare la professora Liborio Stupia. Tra l'altro ringraziamo ancora la professora Liborio Stupia perché ci ha consentito anche di girare delle immagini in esclusiva all'interno del laboratorio dove si processano tamponi. Oltre 430.000 visualizzazioni, quasi 1.000 commenti, più di 1.000 condivisioni per questo contributo estremamente importante che ci ha fornito il professor Stupia, che ci ha aiutato anche a fare chiarezza sul momento che stiamo vivendo. Così come ha detto giustamente il professor Fazzi, anche il professor Stupia ha detto che in questa fase i contagi sembrano molti di più proprio perché sugli antigenici non c'è il molecolare di conferma. E' anche spiegato e sottolineato che questo provvedimento della regione è un provvedimento estremamente opportuno perché i carichi di tamponi che arrivano in laboratorio non consentirebbero di avere un quadro chiaro della situazione. Ci spiegava anche Stupia che in una fase come questa, con il picco di contagi che c'è in questo momento, è anche impossibile fare una tracciabilità. Quindi meno pressione nei laboratori per i tamponi e la situazione mano a mano diventa più fluida. Questo in sintesi, quello che ha detto Stupia, ma ha detto anche tante cose interessanti al nostro collega Enrico Giancarli, vi suggerisco di andare a vedere il reportage del nostro Enrico Giancarli sul nostro profilo Facebook di Rete8, che è stato estremamente importante anche perché spiega e fa vedere come vengono processati i tamponi all'interno del laboratorio. Ne approfitto Giuliola per fare un augurio di buon anno da parte della nostra redazione social a tutti gli abruzzesi e a tutti voi. Grazie Giuliola. Grazie, tanti auguri, buon lavoro e approfittiamo Luca anche per invitare tutti gli amici di Facebook, gli internauti ad essere educati quando entrano nella nostra casa social perché lo spazio è dato a tutti quotidianamente in tutte le ore del giorno e della notte perché possono scrivere coloro che ci seguono a qualsiasi ora, però invitiamo ad essere educati, a non istigare all'odio e soprattutto a non scrivere parole che sono irripetibili e che poi possono nei loro confronti generare anche delle denunce e quindi poi sarebbero costretti anche a un risarcimento dei danni. Io approfitto perché quotidianamente purtroppo registriamo anche per fortuna da una minoranza di internauti un accanimento, un incitamento all'odio e soprattutto un gergo poco consono a una pagina che invece vuole essere di informazione.